La musica che appartiene a Daniele, del minueto di Ioanzio Tempache, che noi studiamo spesso con Daniele, che ci piace molto perché è un esempio di rara semplicità e bellezza, che appartiene con le vinti, che è un po' un auspicio per il mondo dell'infanzia di oggi, in un paese come il nostro, che è un paese dove la musica è stata uno dei linguaggi più importanti, più dell'arte, che questi primi anni saprà essere messo un po' da parte. Quindi speriamo che questo momento da parte sia la metafora per portare la musica nel seno, alle quali piccoli che sembrano loro per domani, nel senso del mondo, il nostro amore di Dio. Grazie. 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 Grazie.